bentornati a radio design oggi siamo in compagnia di marco polloni benvenuto marco grazie a tutti o tu sei un architetto sei venuto a trovarci insieme alla nostra docente marta toni per quel che riguarda l'interior design e oggi sei qui per un workshop raccontaci intanto chi sei tu da dove vieni e quanti giri hai fatto perché mi hai anticipato che hai girato un pochino il mondo sono laureato a milano e ho lavorato per 6 7 anni con Ettore Sozzas nel suo studio a Milano uno dei tanti esatto di giorni grande architetto e designer fotografo anche artista e niente dopodiché ho cominciato la mia professione da libro professionista e mi è portato a fare un po' di progetti prima a Milano dopodiché sono andato in Bahrain dove ho seguito un altro architetto uno studio che si occupava di interior design banche uffici e dopo sono ritornato a Milano altri due anni poi sono ripartito sono andato in Ucraina altri due anni la quindi ho fatto questi periodi sabatici ogni due anni e ultimamente sono stato l'anno scorso a Parigi a seguire un hotel 5 stelle e adesso sono ritornato a dicembre sto facendo gli uffici da Milano insomma comunque insomma si viaggia interessante conosci persone nuove e sei per inizio nuove culture insomma ogni cosa ti arricchisce insomma e intanto qual è stato il paese che ti ha arricchito di più da un punto di vista creativo magari creativo direi di più sì in Bahrain perché diciamo i nostri clienti erano molto ricchi quindi c'era ovviamente no budget quasi e quindi ovviamente potevi veramente sbizzarrirti c'è la fantasia potevi proprio applicarla diciamo bello bello invece l'Ucraina cosa ti ha lasciato? in Ucraina è stata un'esperienza diversa perché il cliente era voleva un progetto di interior design classico che io di solito non ce l'ho mai seguito di solito faccio un moderno cioè contemporaneo e invece in cui la stessa cosa sarebbe nell'ideale della gente normale anche in Arabia normalmente si pensa a questo cioè il fatto di avere i orpelli a c'è un po più pomposo invece i clienti nostri non lo erano perché lo studio proprio lì in Bahrain era proprio tagliato per l'architettura interior design moderno quindi soprattutto loro i giovani che vanno bareniti vanno a studiare molto a Londra economia eccetera quindi sono più abituati a nuovi stili certo e quindi quando tornano rientrano in Bahrain vogliono vogliono quello infatti noi avevamo proprio questa fascia di clienti che non erano quelli proprio cioè proprio giovani diciamo invece appunto lì in Ucraina il cliente invece era proprio legato al classico quindi cioè decorazioni con boiserie a tutta altezza in legno colonne in tarsi proprio un po' pesantino però anche perché richiamo un po' anche lo stile lo stile che hanno loro sì lo zar questi ricordi che hanno loro eccetera poi loro per esempio mentre per noi la ricchezza è magari avere una cosa più minima diciamola così magari più stata un'attenzione ai materiali eccetera loro sono ancora legati al fatto della proprio della ricchezza quindi le dorature le super decorazioni che ricordano i tempi imperiali esatto e quindi appunto è stato un approccio diverso che però mi è servito per arricchire comunque il mio bagaglio cioè più per dire più che stile voglio far vedere che ho i soldi sì 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 quasi sì quasi sì perché alla fine guardandolo dall'esterno magari la spesa che uno ha per realizzare quella cosa di me magari potrebbe spendere molto meno soldi e fare avere più effetto in un altro modo però ovviamente poi quello rimane legato al gusto del cliente insomma quindi è normale è normale invece nello studio dove hai iniziato no? com'è stata questa esperienza? è da sozza si dice diciamo che sono stato abbastanza fortunato perché di solito quando uno esce dalla facoltà di architettura i primi studi magari vai dallo zio, l'amico, ti sfruttano e fanno fare per il tuo hobby eccetera invece io ho stato fortunato perché ho finito di fare il servizio civile non avevo neanche preparato il curriculum per cominciare a spedire il curriculum in giro mi ha chiamato un mio amico che lavorava in uno studio piccolo ma che aveva come progetto da curare una mostra dell'ATM l'azienda di trasporti di Miano alla triennale bello quindi come primo lavoro per un laureato appena laureato è uscito così è stata una bella esperienza insomma e da lì dopodiché ho fatto quell'anno e mezzo lì e poi ovviamente noi abbiamo di passaparola tra architetti come in tutti i lavori da processione esatto raramente in effetti un architetto trova lavoro scrivendo sull'ordine di architetti in Italia raramente si trova sì normalmente esatto e quindi niente tra amici così una volta un mio amico mi ha detto guarda che stanno cercando un architetto di interni da Sozzas io addirittura non sapevo neanche che avessero gli interni perché pensavo facessero solo design e basta e perché poi la maggior parte delle cose le facevano all'estero come architettura in tiro design e niente quindi ho fatto il colloquio con loro è andato bene dopo tipo il 31 di agosto lui mi ha detto ci sentiamo chiamami il 31 di agosto vediamo quando cominciare e ho chiamato mi ha detto ci sono fai oggi pomeriggio facciamo niente ai vieni il 31 agosto ho cominciato a lavorare ma proprio lui? sì sì lui pazzesco e quanti anni c'aveva? eh lui ne aveva 85 e gestiva ancora tutta la grande sì sì ma ha proprio una testa proprio sì sì lucidissima lucidissima ma fino all'ultimo e lui che personaggio è? eh lui era era molto strano nel senso che vabbè è un curioso pazzesco ma è una cosa che dovrebbe essere in tutte le persone ma soprattutto per gli architetti lui toccava le cose sentiva i materiali se era caldo, freddo, ruvido queste cose qua proprio e e poi era molto aveva una ricchezza culturale enorme perché da giovane era compagno della Fernanda Pivano e lei gli ha fatto conoscere la Big Generation gli scrittori eccetera hanno viaggiato molto in India negli Stati Uniti così e in ogni paese dove andava soprattutto l'India aveva avuto una grossa influenza per lui quindi forme forme primordiali di colori primordiali anche accostamenti cose così e per alcune cose non so le in alcuni i suoi stili era molto in contrasto diciamo con il design di quelli degli anni 60 eccetera però è stato un precursore insomma sì come sempre uno vede oltre e poi arriva dieci anni prima e guida e lui pur essendo il 1917 ha attraversato tutta la storia del design dell'architettura in tiro italiana disegnando pezzi famosissimi che sono esposti al MoMA certo no un personaggio un personaggio esternamente per le persone che lo vedevano all'esterno sembrava una persona molto mite diciamo no invece ovviamente grande temperamento questo è un classico di tutti i personaggi di questo genere sì 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 ma affascinante una persona proprio affascinante per dirti l'altro giorno ho intervistato una fashion designer che è lavorato da Valentino Valentino era così cioè era un genio toccava cioè toccava il progetto faceva una piccola modifica che la trasformava in qualcosa di straordinario sì 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 poi però aveva era super esigente aveva una tempera sì 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 è così si crede che devi essere così sì secondo me sì perché per certi versi il discorso di genio e sorolettezza funziona nel senso che se uno è troppo razionale si crea quasi dei limiti io per esempio mi ricordo una volta stavamo facendo il progetto per una villa di un gallerista in Belgio lui aveva una collezione di animali volatili la casa è stata chiamata Bird House perché all'interno di questa casa che era distribuita in diversi spazi c'erano delle voliere ma enormi tipo non so sei metri di altezza ed erano collegate con dei corridoi quindi praticamente un uccello poteva volare da una voliera all'altra passando sopra i corridoi della casa pazzesco e io mi ricordo avevamo una revisione da fare tipo il giorno dopo e stavamo guardando la storia ti faccio un esempio veloce stavamo guardando questa stanza da letto il letto proprio di vostro cliente guardo i livelli non ti procurrò il tempo possiamo parlare anche un'ora ok va bene e niente quindi ho tirato fuori il disegno mi ho cominciato a guardare le dimensioni eccetera eccetera io ho cominciato questa qui potremmo cambiare giriamo questa di qua questa di là poi però bisogna vedere un po' vabbè prendi il disegno della stanza e quindi vado prendi il disegno della stanza comincio a guardare la stanza e dice sì però questo potremmo spostare un po' prendi il disegno della pianta della casa ha cambiato e praticamente lui ogni volta cominciava a cambiare una cosa però questo girandola influisce su quest'altro quindi è andato a prendermi la pianta della casa e io che sapevo che il giorno dopo avevo questa consegna avevo il contavore che dicevo qui devo stare tutta la notte perché ogni cosa che cambiava per me ero è bella però intanto pensavo cacchio deve cambiare come facciamo di solito e lì usavamo ancora il tecnigrafo cioè a quell'epoca non avevamo ancora passato dal computer non avevamo ancora passato dal computer sì questa cosa lì è stata una roba anche derivata perché lo studio era diviso in tre parti c'era la grafica l'intestral design e l'architettura interna e i primi ovviamente a usare il computer sono stati i grafici quindi avevano tutti i Mac man mano che arrivavano i nuovi Mac i vecchi passavano a quelli di interior di industrial design e poi sono arrivati da noi il terzo livello di Mac il terzo livello quando siamo arrivati noi c'era un computer che 2-3 computer scusami ma noi eravamo tipo 8 architetti quindi c'era quando inizavi un progetto dicevi cosa facciamo cominciamo col computer però il computer non puoi usarlo sempre perché ti alzi vai in bagno arriva l'altro ti salva chiudi il file e apri il suo o se no disegniamo sui lucidi ancora più lucidi e quindi è stato come ho fatto giustamente costava uno stonfo di soldi il Mac eh sì ma in più 5 mila 5 mila di lire c'erano ancora quelli colorati sai che ad un certo punto sono arrivati eh il Mac in tosh proprio e niente a un certo punto quando sono arrivati a noi gli ultimi cioè i primi computer che erano arrivati nello studio avevano soltanto programmi di grafica quindi noi non avevamo non so tipo AutoCAD su tutti questi programmi che sono facilmente misuri una cosa e con due clic che tiene fuori la misura esatta cioè lì era come disegnare cioè dovevi prendere misure vicine facevi proprio le linee come se tu stessi disegnando ma lo facevi al computer perché era una cosa grafica non da architettura quindi era una roba mamma ci mettevi una vita a fare eh sì abbastanza mamma però insomma alla fine io ho fatto un po' di AutoCAD ma mi ricordo che era delirante negli anni 90 adesso non so come si adesso cambiano ogni tanto qualcosine insomma sempre qua e l'AutoCAD alla fine siamo sempre lì sì 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 comunque e invece adesso a cosa stai lavorando e poi diciamo altre due domande curiose ok adesso sto facendo due uffici più o meno di 250 metri quadrati per due aziende sono i mercati nord est di Milano e sono aziende che fanno web design più anche interessante anche quella come è stato il passaggio da a livello professionale da lavorare per diciamo studi e poi passare a freelance perché tu adesso sei un freelance no adesso sono libro professionista adesso faccio faccio freelance anche per alcuni studi eccetera adesso mi di meno perché ovviamente ho i miei lavori eccetera diciamo che quando ero nello studio Sozzas ovviamente dopo un po' di anni fai esperienze con ci persone eccetera ovviamente tu ti arricchisci e quindi quando cominci ad avere magari dei lavori che sono abbastanza importanti e ti permettono di poi essere magari autonomo per un anno più o meno certo avrebbe capitato così allora puoi dire vabbè comincio a fare il salto perché vabbè nel senso da noi è stato anche facile nel senso che Ettore aveva già una certa età quindi dici tu dici vabbè se non prendo questo treno che magari con questo lavoro che mi permette un anno di staccare magari non passa più o passa per tuo tempo e lo studio comunque vista la sua personalità lui non aveva neanche intenzione che continuasse lo studio finora con me cioè suo papà si chiamava anche lui Ettore Sozzas e faceva anche lui l'architetto lui ha fatto proprio l'architettura tipo pianoina a casa a Torino cose così lui ha cominciato a lavorare con suo papà non aveva figli aveva forse una nipote ma non era neanche interessata a continuare diciamo che non ha mai fatto in modo che gli associati dello studio andassero tanto d'accordo a lui piaceva mettere un po' di zizzaia i grandi fanno questo sì sì tipo un dividendo funziona sempre esatto e infatti tipo gli associati i primi associati Aldo Cibic Matteo Tunna che sono architetti famosi che mi hanno eccetera sono pian piano usciti dallo studio quando sono sentiti più forti certo però appunto gli ultimi che sono che erano rimasti quando lui è mancato lo studio è rimasto aperto giusto perché c'erano ancora le royalties eccetera per i pezzi ah giusto e quindi è rimasto aperto per quello però poi non ha più prodotto perché comunque gli associati così sono andati per la loro strada e niente quindi appunto facendo così invece appunto finché ero nel studio per esempio ho fatto dei primi lavori da solo però stando nello studio perché erano tipo un negozio in galleria vengo in Vittorio Emanoio davanti a Rizzoli e quindi mi consentiva lo studio era in via Brera quindi certo vicinissimo quindi ho pausa pranzo uscivo dallo studio 5 minuti 10 minuti andavo a vedere il cantiere poi tornavo quindi quello potevo fare però appunto quando poi c'è stato il momento di invece fare questa casa studio dentistico quello era un impegno mi avrebbe veramente portato via un anno di tempo quindi ho detto a questo punto qua faccio questa cosa qui questo passo e nel senso l'ho fatto bene anche perché loro comunque mi hanno permesso di continuare a seguire i lavori che stavo completando e quindi lavorando come freelance ho potuto organizzarmi e seguire anche il mio cantiere e dopodiché man mano mi hanno chiesto altre cose sempre portando come freelance quindi in questo caso qui se riesci a gestirti bene si può fare poi dopo ovviamente se aumentano i tuoi lavori ovviamente qualcosa devi lasciare quindi certo ma secondo te no perché io parlo piuttosto dell'ambito mio web agency io non ho mai lavorato in agenzia perché sono uno che non sopporta più di tanto lavorare troppo però ho notato che comunque la tendenza è che lo studio l'agenzia a meno che abbiano clienti giganteschi o che abbiano un nome appunto hanno un senso però mi sembra una cosa che ormai un po' sta quasi morendo sì diciamo che e non si chiede se questo è un bene o un male anche per diciamo per la creazione poi di la cultura del design io parere soprattutto per noi giovani architetti il fatto di lavorare da soli visto anche la situazione economica è anche più semplice nel senso che hai meno spese sei più flessibile esatto se ti capita di fare lavori che hai bisogno di più persone hai sempre un altro due o tre amici che sono più architetti anche quelli lavorano a soli con cui magari hai già lavorato in passato eccetera e crea una certa specie di network tutto più liquido esatto in questo caso sì adesso per farci un esempio tra una settimana ho un incontro con una persona con cui avevo già lavorato in passato è un cliente russo che vorrebbe fare delle ville e ha tre ville che teoricamente dovrebbe fare adesso ci dovremmo incontrare e vedere un attimino come conoscerci eccetera e sono tre ville di pezzature importanti la prima è da 800 metri quadrati e uno potrebbe dire vabbè 800 metri quadrati anche da solo la posso fare poi ce n'è un'altra da 1500 e una da 2500 cioè non sono più ville sono proprio palazzi in quel caso ovviamente se sono tutte e tre da fare contemporaneamente o comunque anche soltanto quello da 2500 metri quadrati non riesci proprio a controllare completamente tutto soprattutto se poi il cliente ha delle tempistiche molto brevi diciamo se non so tra tre anni due anni ok ma quindi quel caso lì sicuramente contetterei qualche altro architetto un amico mio in cui poter lavorare insieme però diciamo che è più snella come cosa nel senso che quando ti capita un lavoro grosso contatti le persone con cui collabori certo per ognuno non hai costi di gestione enormi è quello soprattutto la cosa che ti fa pensare insomma perché a volte il passo che devi fare è accetto un lavoro grande mi allargo con lo studio però dopo hai spese enormi da affrontare e il problema forse lo studio è la situazione economica più che altro è quella soprattutto quella perché nonostante appunto c'è stato l'Expo a Milano ci sono stati veramente grandi sviluppi cioè è stato quasi che quando con l'Expo quando c'è stato l'Expo a molte zone di Milano tipo le Varesine che era la zona dove c'è Costocomo adesso non so erano progetti congelati da molto tempo e sono proprio sbloccati tutti solo che poi il problema è stato che per esempio non hanno fatto hanno aperto concorsi internazionali quindi sono intervenuti magari grossi studi che in Italia invece non ci sono a parte in suo piano e quindi magari tanti architetti che tendenzialmente potrebbero magari a portare delle cose che non ce la fanno un altro esempio è stato un po' di anni fa la zona della Bacocca tra il Sesto San Giovanni e Milano c'è aspetta un secondo va bene lì c'è stato un progetto grandissimo Vittorio Gregotti ha fatto il master plan e poi ha costruito gli edifici ma praticamente ha fatto tutto lui perché lo studio era molto grande effettivamente però in quel caso lì sarebbe magari stato più intelligente potete forse magari fare il master plan scegliersi due o tre edifici da seguire lui col suo studio ma lasciare poi gli altri edifici da altri architetti perché alla fine non so come fa Calatrava per esempio crei un edificio che diventa poi attrazione per i turisti anche o la gente interessata in quel caso lì magari uno potrebbe andare però dopo che hai visto uno o due o tre edifici di Gregotti certo non stai a girare basta invece avere quella zona lì che deve essere sviluppata e tanti architetti che fanno diverse cose diventa magari anche più stimolante per chi visita vedere le varie le varie architetture i vari stili insomma così ultima domanda sì secondo te qual è il paese che sta creando ora veramente il design in generale o comunque che sta guidando il mondo ma allora nei paesi europei ce ne sono ancora diciamo che noi siamo come Italia siamo ancora sempre in buona posizione diciamo che più le aziende che i designer italiani perché ovviamente il mercato si è allargato ci sono tantissimi designer non so scandinavi veic ci sono francesi ci sono tantissimi veramente che ancora si propongono anche loro a loro volta le aziende italiane ci sono mercati grandissimi cioè tipo la Cina eccetera che ovviamente stesso stanno cominciando a capire perché prima magari copiavano eccetera adesso cominciano ad avere il know-how c'è magari gli italiani o comunque designer stranieri che vanno lì a lavorare e avendo grande mercato che grande potenzialità come spesso gli investimenti potrebbero essere il futuro però se hai detto dell'India se hai detto del Brasile della Cina insomma però dopo non è una regola fissa quindi no infatti questi Brics sono finiti un po' male esatto Turchia malissimo esatto Brasile tragedia ora in particolare Sud America sì 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 quindi dipende un po' ma non è una regola certa se no saremo saremo a posto invece non è così diciamo che ce la possiamo ancora cavare ce la caviamo sì diciamo che dai italiani io vedo anche quando siamo all'estero a lavorare anche con le professionisti tipo Fregnami eccetera c'è sempre quella laurea sì c'è sempre qualcosa che un po' ci marciamo sopra nel senso che quando sei italiano all'estero ho un 20% in più di considerazione sul fatto di design moda eccetera ce l'hai perché è proprio questa cosa il design la moda l'architettura il suo rinascimento c'è tutta questa cosa storica che ti porta come il background e poi la capacità secondo me di risolvere le cose al momento hai un imprevisto qualsiasi cosa ti giri c'è il falegname e ti dice no si potrebbe fare così ma programma invece all'estero c'è un falegname e ti direbbe no hai fatto così il disegno così non si può fare quindi questa cosa è vera sì quando tu lavoravi all'estero questa cosa si ripeteva spesso sì cioè che tu eri quello che alla fine tu come gli altri italiani magari che lavorano con te ti lavorano fuori dal cilindro sì poi soprattutto quando sei in cantiere perché cioè in cantiere ovviamente non capita mai le cose esattamente che tu prevegli certo magari se una ristrutturazione demolisci un muro trovi una cosa che non ti aspettavi devi risolvere al momento magari c'è il cliente e ottieni fuori questa cosa guarda ma potremmo fare così e ovviamente questo rimane un po' folgorato mi sembra perché magari uno straniero sarebbe lì dire no aspetta faccio la foto ci penso un attimo mi sceglie un po' più questa arte di arrangiarsi che secondo me nel nostro DNA ma funziona tante volte insomma come ti possiamo trovare in rete per chiudere cioè hai un riferimento sì c'è un mio sito www.marcopolloniarchitetto.blogspot.com comunque Marco Polloni salto fuori allora ti andiamo a cercare lì va bene ti cerchiamo lì grazie mille grazie a te è bello parlare con te quindi parlerei altre 12 ore ma la chiudiamo perché devi continuare a fare il workshop esatto se no poi mi reclamano di là se no poi ci uccidono grazie ancora grazie a voi ciao 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 Grazie.